In Inghilterra, in questo mondiale il Brasile è i favoriti, già vincitore del 58 e 62. Contro la Bulgaria, Pelé segna dalla fuori area di punizioni questo bellissimo gol al quindicesimo del primo tempo, Brasile 1, Bulgaria 0. Il Brasile si è rinnovato dal 62 e ha una mista di giovani e alcuni veterani. Durante quasi tutto il mondiale precedente Pelé non aveva potuto giocare ed ora il re del calcio intende riconfermare il suo titolo. Eccolo in azione dalla sinistra, ma la difesa dei bulgari non gli consente di esprimere il proprio talento come avrebbe sperato. Osservate Garrincha. Cos'era Garrincha in quel periodo? Aveva un dribble veramente entusiasmante. È un giocatore che faceva la differenza. Il secondo gol del Brasile arriva da un calcio di punizioni che Garrincha lo effettua con un tiro potentissimo che finisce nell'angolino alto. La gioia dei brasiliani. Brasile 2, Bulgaria 0.